Buonasera è stata una giornata come dire intensa per la finale della Louis Vuitton Cup e anche incerta che ha diciamo un lato positivo e uno negativo. Nella prima delle due regate in programma oggi giornata di vento forte per cui continui i rinvii perché il limite era superiore a un certo punto improvvisamente il limite era rientrato ma in quel momento proprio appena prima Lunarossa ha rotto le stecche, quattro stecche e quindi ha dovuto cambiare la randa. Il quarto d'ora diciamo canonico di richiesta di ritardo non basta per cambiare la randa e per cui nel momento in cui mancavano tre minuti della partenza a bordo di Lunarossa c'era lo short team, i velai e quindi è stata squalificata. Ineos ha fatto la finta di partire e poi la regata è stata fermata. Poi ancora ritardi uno dietro l'altro sembra quasi strano che ci sia stata quella finestra in cui è andata la partenza ma ci sono i computer che decidono e ci sono i dati del vento. E alla fine finalmente la regata è partita e Lunarossa ha vinto. Quindi siamo su due a due. Lunarossa ha vinto, ha anche convinto ma adesso di tutto questo parleremo questa sera con Gianluca Pasini. Ciao Gianluca. Ciao a tutti. Allora, le cose, a parte il fatto che potrebbe essere che Lunarossa faccia una richiesta di rifare la regata, l'arbitration panel, bisogna capire quali sono i motivi per cui queste stecche si sono rotte, l'albero con l'enaro ruotato, può essere un problema di software, può anche darsi che non succeda niente, che accettino la sfortuna che fa il paio con la fortuna di ieri quando la regata è stata finita fuori tempo massimo, però la reazione che c'è stata è stata straordinaria. Pensavo che tu iniziassi con dicendo che bella la vela perché la seconda regata è stata una delle più divertenti da quando c'è questa classe, sportellate in partenza, due richieste di penalità, questa volta non date contro Lunarossa, molto aggressiva Lunarossa come secondo me doveva essere e alla fine anche se è stata una regata combattuta, però Lunarossa ha sempre mantenuto praticamente da subito la testa fino ad allargare poi Ineos ha guadagnato qualcosa, però una prova veramente convincente in quelle condizioni di vento perché era un vento che teoricamente doveva essere più favorevole gli inglesi. Ma credo che oramai anche questa teoria direi che l'abbiamo un po' smontata. Direi definitivamente. Perché poi ricordiamo che nel match race conta il punto, quindi non conta se hai, cioè conta chi arriva primo. È vero, io l'unico momento un po' di così, di striccicorino è stato quando hanno sbagliato l'ultima strambata della poppa, però alla fine comunque Lunarossa ha sempre avuto il controllo della regata e l'unica manovra. Sono avvicinati in un paio di momenti perché gli inglesi navigano bene, poi sotto pressione, perché questo è da dire, gli inglesi a un certo punto hanno sbagliato clamorosamente una manovra, quindi commettono anche loro. Un giro di boa che sono nati lunghissimi proprio e lì ho detto è fatta. Perché sono condizioni veramente impegnative e credo che Lunarossa abbia risposto alla grande. Quello delle lotture non è la prima volta, sono barche abbastanza fragili, quasi tutte, soggette a rotture più di una barca tradizionale. È vero che Lunarossa ha perso, anche se quello che è successo nella semifinale della Louis Vuitton Cup non conta più niente, però è la seconda regata che perde per una rottura. A Ineos non è mai successo. Io credo che faccia parte un po' della storia della regata. Non so se in due indizi fanno una prova, nel senso che sono tutte diverse. Lunarossa è più facile degli altri, lo sapremo probabilmente a fine della Coppa. Lungi da me peraltro mettere sotto accusa il team perché, come dire... No, il team anche oggi ha reagito alla grande. Un modo fantastico. Cioè comunque avevano la randa pronta, poi cambiare due rande perché sono due rande parallele su quella barca lì è complicato e hanno fatto tutto in modo perfetto e peraltro avevano una randa che in quelle condizioni era la randa giusta. Non è che hanno messo una randa così per caso che avevano i barca. Sono rotture, abbiamo visto altri equipaggi... Oggi abbiamo visto Alighi scufiare, non l'abbiamo visto ma l'abbiamo vista scufiata, ecco. Certo, quindi voglio dire insomma sono tutte condizioni estreme, ci sta che sono barche molto sollecitate, ci sta una rottura. Credo che sia interessante vedere come sono andate le cose perché le due vittorie di Luna Rossa finora sono molto convincenti. Resta una sfida in cui credo che la componente anche mentale avrà il suo peso perché si è visto che bisogna reggere situazioni di grande stress. Oggi immaginiamo due ore dopo aver perso una regata in quella maniera stai due ore in cui la partenza viene data, questo forse non tutti lo sanno, ogni dieci minuti quindi sono rinvii di dieci minuti in dieci minuti. E sai se parti quando mancano poi tre minuti. Esatto e magari stai due ore a mollo ad aspettare eh una partenza che per questioni di vento non non deve essere data ma credo che tanto c'è una notizia che domani doveva essere giorno di eh riposo e invece domani fanno la regata quinta e sesta quindi domani di nuovo saremo in in regata probabilmente questo è dovuto anche alle prisioni meteo della settimana ovviamente non lo possiamo sapere ma è bello anche che in fondo le regate siano tutti i giorni se vogliamo e e soprattutto sarebbe sarebbe bello che eh l'energia era una volta un diciamo che una delle cose era si regatava per un periodo prolungato di tempo le le pause erano le eccezioni diciamo così anche all'interno della settimana certo e e sarebbe bello che Luna Rossa domani portasse sul campo di regata l'energia che ha raccolto nella nella seconda regata di oggi. Certamente si è visto comunque che gli inglesi sono credo ugualmente veloci. Le barche ha sembrano avere prestazioni molto simili. Oggi Luna Rossa non vuole dire nulla però ha fatto toccato una punta che gli altri non hanno raggiunto. Oltre 55 nodi credo che sia un record assoluto per questa classe considerando che ha un vento limite era 21 lì naturalmente c'erano delle raffiche superiori però 55 eh sono più di cento all'ora eh cos'è cento e due se non sbaglio eh vuol dire eh che hai gente molto molto preparata per guidare queste barche. Sì anche perché era stato detto che il limite diciamo assoluto era intorno ai 54 ecco che oltre era un rischio e invece altro secondo me concludendo altra cosa molto interessante nella regata che hanno perso e anche nelle interviste post regata Benesli è sembrato nervosissimo che è il trucco in cui bisogna portarlo farlo innervosire perché allora la storia ci insegna che va un po' nel pallone. Mi sembrava molto nervoso anche quando c'è eh quel non contatto ovviamente quella quell'incrocio nel pre partenza che è la prima volta che loro chiamano la la penalità si sente anche qualche moccolon a bordo della marca inglese e lì ci sente un Jesus detto da qualcuno non mi sembrava Benesli ma che fa capire che c'è stato un momento in cui si sono spaventati a bordo di Ineos. Che la tensione era palpabile eh indubbiamente oggi diciamo l'attesa è stata premiata a parte nella prima regata perché come abbiamo già detto all'inizio abbiamo visto una regata fantastica combattuta nei primi due lati e anche combattuta negli ultimi due diciamo quando poi Ineos ha recuperato. Luna Rossa non ha mai dato l'impressione di mettersi in una stazione di rischio di essere superata perché sempre manteneva un buon controllo eh però quando una regata finisce per quattro secondi vuol dire che c'è stato combattimento vero. Davvero. L'unica cosa secondo me si parla molto di questi tempi morti e Barcellona eccetera eccetera. Io credo che uno nel pacchetto vela inteso come sport ci sia doversi confrontare con il vento e credo che sia in nessuna Coppa America non non quelle passate non credo in quelle future ci sono dei momenti in cui vorresti navigare e non lo puoi fare perché. No quello senz'altro l'unica cosa che è un po' mi ha lasciato perplesso è che quando il vento è poco il campo di regata è molto irregolare. Quando il vento è tanto eh la raffica in più in meno non è che faccia necessariamente la differenza. Quando il vento è poco se ci sono due nodi da una parte sei dall'altra otto quello è. È stata è stata la seconda regata di questa finale in cui il vento la partenza probabilmente non dove non doveva essere scusate la terza non doveva essere dato perché quando le condizioni sono così ma ci si aggrappa poi io credo che sia più un sistema di regolamenti eh di defender li ha fatti con con Inos forse non ne hanno non l'hanno azzeccata bene Barcellona. Vediamo che paghino tutte e due le loro scelte. Gianluca grazie come sempre. A voi. Ci vediamo tra un paio di giorni. Alla prossima. Ciao. Ciao.